Le province di Vicenza, Padova, oltre a Venezia si entrano nel programma del festival rendendolo ricco di appuntamenti. Quinta edizione del festival Treviso Giallo dal 23 al 26 marzo nella prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina con un consistente ampliamento delle collaborazioni. Si terranno appuntamenti con i bambini legati alla criminalità ambientale. Abbiamo un'importante novità e cioè il coinvolgimento delle cartolibrerie del territorio con i gruppi di lettura. Le cartolibrerie sono dei presidi culturali importantissimi quindi siamo veramente felici e onorati che abbiano apprezzato l'invito e siano entrati nel programma. Un festival dal taglio interdisciplinare e scientifico con molti autori noti come De Silva, Gabriella Genisi, Patrizia Rinaldi, Gino Vignali, solo alcuni quelli citati con cui si mira ad accontentare i gusti di tutti i lettori. E non mancano anche le mostre come grazie alla bellissima collaborazione con la città di Oderzo e la fondazione Oderzo Cultura una mostra dedicata alle bellissime tavole di Alberto Martini che è diventato famoso anche per aver illustrato i libri di Edgar Allan Poe. Quindi un programma molto ricco che vi invito a consultare e vi aspetto a Treviso per Treviso Giallo.